È così bello oggi! Quella che cos'è? Ecco qui! Wow! Ehi, adesso ne ho due! Che diavolo succede laggiù? Mi fermo un attimo qui. Peccato che non ci sia il parcheggiatore. Aspetta, cosa? Quella ragazza è vestita così male! Hai trovato una di quelle scatole magiche? Non mi dispiacerebbe avere qualche barretta di cioccolata in più. Ok. Perché non esce niente? C'è qualcuno lì? Oh, la viziata non ha ottenuto quello che voleva. Accidenti! Quanta roba! Non può essere! Fighissimo! Oh, quelle sono mie? Non credo proprio. Ho detto dammele! Scusate, ragazzi? Cosa? Una sfida culinaria! Oh, oh! Che posto è questo? Che la sfida abbia inizio! È per prima cosa cioccolato! Ma che cosa ci faccio con tutta questa roba? Uh, delizioso! So chi chiamare! Puoi venire? Certo! Certo! Grazie! Meno male che ho risolto! Ecco, prendi! Davvero! Che giornata fortunata! Più cioccolato c'è, meglio sarà! Oh, è arrivato! Grazie! Cosa diavolo è quello? Non hai mai visto delle caramelle prima? Ecco! Eh, caramelle? Uscite per favore! Perché non esce niente? Ridicolo! Come se non potessi permettermele! Stupide banconote! Che diavolo! Volano soldi? Mi servono delle monete! Chi trova qualcosa se la tiene? Nemmeno una stupida moneta! Ma come fa? È pazza! Sono solo soldi, tesoro! Ups! Devo fare anch'io una telefonata! Cosa? Oh sì, è un po' vecchio! Ecco, questo modello è più recente! Ehi! Sì, assolutamente! Intendo certo, tesoro! Ok, a dopo, allora! Sì, ok, va bene! Sta arrivando! Sta arrivando, sì! Ho un ordine per la signorina Naomi! Ciao! Ciao! Questo, per favore! Oh, certo! È sufficiente? Vediamo! Molto bene, signorini! Per prima cosa scioglierò questo cioccolato, poi mi serve un palloncino sgonfio. Ci spremerò dentro il cioccolato. Ora legherò il palloncino. Lo appoggerò sopra una striscia di nastro e ci spengerò sopra una palletta per il gelato, avvolgendo intorno il nastro. E via nel congelatore! Quando si sarà indurito avrò una bellissima ciotola di cioccolato. Senza il palloncino, però. ci puoi mettere dentro ciò che preferisci. E i lamponi sono un'ottima scelta. Poi tanta panna montata. pronta da mangiare. Ottimo! Addio! Aspetta! Sì? Ne fai una per me? Ehm... Oh, non ho niente. Non ci posso credere. Non è giusto. Le sta bene? Tocca a me? Non credo proprio. Ecco. Assolutamente divino. hai ottenuto un punto. Ehi, a me sta bene. Sì, fa niente. Aspetta un attimo. Su cosa sono seduta? Oh, dimenticavo che ci fosse. Era lì per tutto questo tempo. Incredibile. Ce la giochiamo? Mora cinese. Forbici battono carta. Wow, guarda quante uova fresche. Ok, e perché tanto entusiasmo? Non mi dicono proprio niente. A meno che... Non chiamo l'esperto dei gadget. Lui sa cosa fare. Ok, se lo dici tu. Wow. Oh, cosa? Ciao. Ho saputo che ti serve il mio aiuto. Tutte le risposte sono qui dentro. Oh, sì. Che c'è? Vuoi dare un'occhiata? Non ci posso credere. Guarda quanti aggeggi e gadget. Ah, non così in fretta. Certo. Ecco qui. Grazie mille. Posso prenderlo? Sembra fighissimo. Grazie. Adesso posso divertirmi un po'. Ma che hai lì? Una padella? Naomi? Naomi? Che c'è? Facciamo a cambio. Sei sicura? Va bene. Tieni. Ora sì che va meglio. Devo prendere l'uovo. Aspetta, che posso farci? Non ho mai cucinato un uovo prima d'ora. Ah! Credo che così vada bene. E... Aspetta. Sto facendo dei progressi. Bam! Ancora uno. Bam! A tra poco. Credo di avere qualcosa di utile qui dentro. Vediamo. Un pomodoro? Non credo proprio. Questo? Che schifo! Dai, ci deve essere qualcosa. Eh, no. Però... Credo che questo funzioni. Devo solo riscaldarla. Più ce ne sono, meglio sarà. E accendiamo. E... Rompiti. Wow, è il tuorlo. È rimasto intatto. Questo gadget è geniale. E si stanno cuocendo bene. E ora di impiattarle. Tadam! Figo, vero? Sì, sono carine, ma le mie sono migliori. Ah! Che diavolo è successo? Accidenti? Non capisco. Ehi, sembra che abbia vinto di nuovo. Vediamo cosa c'è sotto. Wow, dei biscotti. Chi non li vorrebbe? A me non dispiace affatto. Oh, del latte. Oh, oh. Beh, puoi averlo se vuoi. Insisto. No, no, puoi averlo tu. Tu. Andiamo, forza. No, no, no. Ok, lo prendo. Grazie. Aspetta. Sul serio? Era solo un modo di dire. Dammi quel latte. Non credo proprio è mio. Io me lo merito di più. No. Guarda che cosa hai fatto. Non è un mio problema. Adesso come farò a mangiarli? Sono poltiglia. Aspetta. So cosa fare. Metterò due biscotti in una tazza, poi aggiungerò una tazza di latte. E dopo aver schiacciato i biscotti con la forchetta, ci aggiungerò mezzo bicchiere di farina e un po' di cacao in polvere. Mescoliamo adesso. Una volta che diventa così. Deve essere riscaldato. Metterò la tazza nel microonde e aspetterò. Circa dieci minuti. Fatto. Vediamo. Ora una piccola torta al cioccolato. Oh! Mmm! Ah! Non riuscirò mai a fare di meglio. Ho solo un mucchio di stupidi biscotti. Devo pensare a qualcosa. Ne ho cinque. Ci sono! Sa finta di niente. Comincio con la pasta frolla e la crema spalmabile alle nocciole. La devo distribuire uniformemente. Così. Una volta finito, aggiungerò i biscotti e il cioccolato bianco. Gli sprinkles non possono di certo mancare. E in questo caso ce ne metterò tantissimi. Fatto. Mmm! Com'è buona! Ahem! Oh! L'hai fatta tu! È incredibile! E non immagini quanto sia buona. Adesso taglierò un pezzo. Oh! Aspetta! Non c'è più niente! Oh! Che peccato! Io ho appena cominciato. Mmm! Buon appetito! Stai bene laggiù, Naomi? Sembri così triste. Va bene, te ne do un pezzo. Ma sai che c'è? Te ne darò giusto un assaggio. Sì! Ok, ecco la tua parte. Non mangiarla troppo in fretta. Quindi? Sei la migliore! Grazie! Beh, lo sapevo già. Mmm! Com'è buona! Sono impressionata, Ava! Del resto ho vinto io questo round. Ahah! Sì, è così, vero? Direi che dovremmo farlo insieme. Ok, ecco. Zucchero! Una montagna di delizioso zucchero! Ma che dovrei farci? Dovrò inventarmi qualcosa. Mmm, potrei mescolarlo un po'. Ah, inutile. E se lo mangio? Oh, ma anche no! Una stella. Credo che potrei inventarmi qualcosa. Che carini, mi piacciono! Ma se sollevassi lo stampo? Ah, peccato. Non so più che cosa fare. Devo assolutamente chiamare qualcuno. Aiuto! Cosa? Forse arriva qualcuno? Riesco a malapena vedere! Che succede? Ah? Che cos'è? Fantastico, ci penso io! Accidenti, adesso ho del lavoro serio da fare. Metto lo zucchero nel gadget. Aggiungo del colorante alimentare. E lo accendo. Sta succedendo qualcosa? Sì! Vedo lo zucchero filato! E in men che non si dica. Ce n'è tantissimo! Che figo! Wow! Questo è decisamente degno di un punto. E ora siamo alla pari. Sembri così giù di morale. Dai, condividerò il mio zucchero con te. Ne vuoi, Naomi? Davvero? Spettacolo! Certo! No! Oh? Aspetta, immergilo qui dentro. Oh, ottima idea! Sta scomparendo davanti ai miei occhi. È una specie di magia! Non ce n'è più. Ma guarda che cosa ho ottenuto! Fantastico, vero? Ora entrambe avremo la nostra dose giornaliera di zucchero. Wow, stamattina ho l'alito pesante. Meglio lavarsi i denti. Aspetta. Ehi! Stai dimenticando qualcosa? Sì, signore, voglio dire, signora, ecco a lei. Prego, il suo dentifricio. Presto avrà l'alito che saprà di menta. Sì, puoi andare adesso. È così difficile trovare del personale affidabile. Va già molto meglio. Devo fare i pipì. Con noia. Ho un'idea. Le serve la carta igienica? Grazie. Ups, sono così imbranata. Ma questa è cacca! Non vengo pagata abbastanza. Ci sei cascata, è solo crema spalmabile. Voi ricchi e il vostro strano senso dell'umorismo. Ok, meglio che mi prepari. L'oro fa così bene alla pelle. Oh, adoro le maschere di diamanti. Sono ottime per esfoliare la pelle, ma penso di averla lasciata abbastanza. Oh, wow, la mia pelle è così luminosa. Meglio lavarsi i denti. Il suo spazzolino da denti, signora. Posso? Dobbiamo mantenere brillante il sorriso hollywoodiano. Apre per bene. Lava per bene tutti i denti. Ma certo. Penso di avere del caviale bloccato tra i denti e così va bene. È tutta la mattina che la devo fare. Ah, che sollievo. Ho finito. Che spreco di denaro. Cos'ha la carta igienica che non va? Mi pulirò da sola stamattina. Oh, che sollievo. Allora me ne vado. Com'è drammatica. Non puzza mica così tanto. Oh, un giammattino. Che bella dormita. Non posso stare sdraiata tutto il giorno. Ho dei cassonetti da razziare. Devo darmi una bella sistemata. Potrebbe volerci un po'. Sono contenta di aver raccolto dell'acqua piovana. È così rinfrescante. Ora sì che sono sveglia. Sono io questo doraccio. Giusto. Sarà meglio che mi lavi i denti. Non che farà una grande differenza. Ok, adesso che devo fare? Ah, queste bustine elimineranno le borse sotto gli occhi. Le ho rubate, voglio dire, e le ho prese in un bar. E posso riusarle più tardi per il tè? Ci sono. Dov'è la carta igienica? Oh? È finita. E adesso come farò? Non userò di nuovo la mia mano. C'è solo una cosa da fare. Questo sì che farà male. Guarda la mia bambola, mamma. Sì, sì, mia cara. Adesso mi annoio. Giocherò con questo orsacchiotto. Ah, sono stufa. Vroom, vroom. Ah, voglio dei giocattoli nuovi. Che succede? Alla mamma non piace che strigli. C'è un pulsante off o qualcosa di simile. Bene, prendi le chiavi della macchina. È tutto ok, va pure. Sapevo avrebbe funzionato. Sarà troppo divertente. Wow! È così brillante. Ed è tutta mia. Non ho neanche la patente. Allacciatevi le cinture. Andremo veloci. La sicurezza prima di tutto. Facciamolo! Vroom! Wow, sono il miglior pilota di sempre. Bip bip, togli di di mezzo. Bip bip. Wow. Ciao, dai un'occhiata alla mia macchina. È fantastica. Stai bene, tesoro? Oh, ok. Ho capito. Quella sì che è una macchina elegante. Vorrei avere anch'io una macchina così. Se ci fosse qualcosa che potessi fare... Cos'è quella? È una macchinina? Questo deve essere il mio giorno fortunato. Posso darla a Danny? Ma deve guidarla da qualche parte. So io cosa fare. Stendi una maglietta bianca su una superficie piana. Usa una penna nera per disegnare una linea curva. Fallo fino in fondo alla maglietta. Disegna una seconda linea creando una strada. E ora disegna la segnaletica orizzontale. Dopo inizia a riempire la strada. Assicurati di disegnare intorno alla segnaletica orizzontale. Quando hai finito dovresti avere qualcosa di simile. Accendiamo i motori! Ciao, Annie! Ho qualcosa per te. Ma non è tutto. Oh! Una strada! È stupefacente! Brum, brum! È come un mini massaggio. Bellissima, mamma! Mamma? È l'auto più veloce di sempre, guarda! Oh, oh sì! Va bene, tesoro. È solo un po' di mal di schiena. No! Aspetta! Aspettatemi! Ho perso l'autobus. Come farò adesso? Ehi! Qualcosa non va? Sembra un lavoro per questo simpatico vagabondo di quartiere. Serve un passaggio? Wow! Avanti, salta su! È un'auto di cartone! Oh sì! Ed è l'ultimo modello! Questo bolide può sfrecciare! Tieniti forte! Andiamo veloci, eh? Senti il vento tra i capelli! È fantastico, grazie! Aspetta, potrei guidare io? Fa pure! È così eccitante! Non ho mai guidato prima! Aspetta, cosa? Brum! Rallento! Guarda! Siamo qui! È tutto d'un pezzo, fortunatamente! Grazie ancora, lo apprezzo! Ciao! Accidenti! È ora di andare a fare la spesa! Al cassonetto! Bip bip! Oh, sta arrivando! Buongiorno, signorina! Le apro la portiera! No! Io non capisco! Non vado in macchina! Che ne dice di uno skateboard? Ma stai scherzando? I roller braid? Guardi come sono belli! Ah, obsoleti! Sono accorto di idee, salvo che... Possiamo usare quello! Ottima idea! Wow! Sembra così divertente! Voglio provarlo! Guardami! No, no, no! Aspetti! Ci vediamo! Che bel modo di viaggiare! Beh, almeno sto facendo il mio cardio quotidiano! Ehi! Sì, sono proprio io! Mi sento così affascinante! Vediamo che si può fare! È davvero fantastico! Mi stanno guardando tutti! Siete tutti i miei fan e vi amo tutti! Oh, è stato così divertente! Sicuramente lo userò di nuovo! È meglio che vada in classe! Ehi, guarda quello! È così futuristico! Gli alieni devono averlo lasciato! E adesso è mio! Niente più auto di cartone! Accidenti! Mi sento così stravagante! Cos'è tutto questo rumore? Salve! Anche i barboni, se lo possono permettere! Non lo userò più! Adesso la sistemo! Non che lei ne abbia bisogno! Dici sempre le cose giuste! Le mattine sono così stressanti! Lo dice a me, ma lei si rilassi! Ok, penso che sia tutto! Come vorrebbe viaggiare oggi? Cosa ne pensa di questa? Sul serio? Non credo proprio! Ok, questa è carina! Oh, lo so! Fammi fare una telefonata! Pronto! Ho bisogno del tuo aiuto! Sì, subito! Un elicottero? Oh, perfetto! Questo è più il mio stile! Avrai un aumento di stipendio! Addio! Sanni, aspetti! Ha dimenticato lo zainetto per la scuola! Puoi lasciarmi laggiù! Dovrei cambiare banco! Ah? Che cos'è stato? È un rapimento! Salvati! Rilassatevi, sono io! Mi piace fare un vero ingresso! Ok, puoi andare! Meno male che mi piacciono i capelli al vento! Allora, che mi sono persa? Oh, grazie! È incredibile! Ma chi si crede di essere? La lezione è finita! Devo seriamente cambiare banco, devo proprio! Oh, la mia pianta! E tu cosa ci faresti con quattro uova o con un mucchio di zucchero? Faccelo sapere e ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per altri video fantastici come questo qui! E tu cosa ci faresti con quattro uova o con un mucchio di zucchero? E tu cosa ci faresti con quattro uova o con un mucchio di zucchero?